benvenuti o bentornati sul mio canale io sono silvia e in questo video vi mostrerò come realizzare un carinissimo cappellino a cuffia infilato utilizzando la prim maxi la macchina da maglieria più grande di casa prim la prim maxi è una macchina da maglieria che ci consente di ottenere lavorazioni in circolare e a pannello con i nostri filati in questo video vedremo come lavorare in circolare per ottenere un cappellino come questo otterremo una texture molto simile a quella della lavorazione con i ferri da maglia e oltre a mostrarvi le caratteristiche tecniche e il funzionamento di questa macchina una piccola pillola creativa per voi vi mostrerò come utilizzare la stessa macchina per ottenere questo bordo perfettamente dritto per tutte le vostre creazioni con prim maxi il cappellino che andremo a realizzare insieme presenta queste misure un diametro di 50 centimetri e un'altezza di 21 centimetri ci serviranno per realizzarlo la nostra prim maxi e tutti i suoi accessori ovviamente del filato e un paio di forbici passiamo quindi a vedere insieme le caratteristiche della nostra macchina e poi a realizzare insieme il nostro cappellino e se questo tutorial sarà per voi un buon spunto creativo mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video la prima maxi o mulinetto maxi vi consente di lavorare praticamente quasi tutti i filati adatti per la lavorazione a mano ovviamente con alcune accortezze per quanto riguarda la tensione del filo e il suo spessore che cosa troviamo all'interno della scatola ovviamente le istruzioni per il montaggio e l'utilizzo della macchina passo passo troviamo la parte centrale della macchina con la manovella da girare e il selettore per passare dalla lavorazione in circolare a quella pannello troviamo l'impugnatura che viene montata nella parte superiore e i tre piedi da agganciare invece nella parte inferiore così da tenere la zona centrale quella della lavorazione ben sollevata davanti ai ganci abbiamo già predisposto montato sulla macchina il guida filo e oltre all'ago in dotazione per una corretta tensione dei vari filati abbiamo il tendifilo che viene poi montato nella parte inferiore della macchina dove potete trovare la prim maxi in tutte le mercerie e negozi fisici online rivenditori del marchio prim andiamo quindi a montare tutte le varie parti della nostra macchina e ad avviare il nostro cappellino il primo step è quello di selezionare la modalità tubolare tramite il selettore che dovrà essere rivolto verso il basso abbiamo qui la fessura del nostro guida filo dobbiamo ruotare la manovella in senso orario finché l'unico gancio quello di colore blu non arriva a trovarsi alla destra del guida filo in questa posizione prendiamo poi il nostro filato ne facciamo scendere circa 40 centimetri all'interno dello spazio della nostra prim maxi possiamo anche abbondare con il filato se ad esempio vogliamo andare a riprendere il bordo inferiore della nostra lavorazione e andiamo ad avviare il nostro progetto ripetendo una determinata sequenza di movimenti che saranno però validi solamente per il primo giro di lavorazione in particolare il nostro filo dovrà passare un gancio sì e un gancio no per tutto il primo giro di lavorazione prendo il mio filo e lo faccio passare al di sotto del gancio di colore blu in questo modo ruoto in senso orario ma non faccio prendere il filo dal gancio successivo lo vado proprio a saltare giro affinché il terzo gancio prenda invece il mio filo vedete che passa proprio sotto il nostro gancio salto il seguente passo sotto al successivo salto e proseguo in questo modo girando lentamente cercando di mantenere la stessa tensione fino a ritrovarmi nuovamente davanti al gancio di colore blu eccoci davanti al nostro primo gancio andiamo ora a far passare il filo attraverso la scanalatura del guida filo e in base alla tipologia di filato che abbiamo scelto dobbiamo farlo passare attraverso la guida del tendifilo questo ci consentirà di ottenere una lavorazione omogenea se non volete utilizzare il tendifilo dovrete regolare voi la tensione del filato prima che questo entri all'interno della prim maxi se utilizziamo filati lisci e sottili il consiglio è quello di farli passare attraverso tutte le fessure del tendifilo mentre se ci troviamo davanti ad esempio a un filato più spesso o irregolare è più facile utilizzarlo se non lo facciamo passare attraverso tutte le fessure un aspetto importante la macchina prenderà da sé il filo da andare poi a lavorare al di sotto dei ganci ma è importante che il filato prima di arrivare al tendifilo rimanga morbido altrimenti mano a mano che continuiamo a lavorare se la macchina avverte troppa tensione nel filato rischia di bloccarsi il mio consiglio è quello di srotolare un pochettino di filato e lasciarvelo qui davanti controllando ovviamente che non si vadano a formare dei nodi e mano a mano che procedete nella lavorazione srotolare piano piano il vostro gomitolo completato quindi il nostro primo giro adesso non dobbiamo far altro che girare in senso orario la nostra manovella e far prendere il filo da tutti i ganci che ci si presentano senza alcuna distinzione proseguite in modo lento e regolare facendo passare il filo sotto tutti i ganci vedete come il tendifilo va a prendere il filato che rimane morbido garantendo una lavorazione omogenea ho continuato nella mia lavorazione fino a raggiungere un'altezza qui con il mio filato di circa 4 centimetri voglio ora mostrarvi un piccolo trucco da fare con l'uncinetto per ottenere un bordo ripiegato molto bello da vedere e soprattutto utile se non volete andare a rifinire con il ferro con l'uncinetto il bordo inferiore del lavoro girando la manovella mi sono fermata qui prima che il gancio di colore blu vada a prendere il mio filo sappiamo che questo gancio segna l'inizio di ogni giro di lavorazione con l'uncinetto prendo il mio lavoro partendo dal gancio di colore blu seguo la lavorazione scendendo verso il basso e vado ad individuare uno di questi fili proprio qui come se tracciassi una linea in verticale partendo dal gancio prendo uno di questi fili lo allungo con l'uncinetto e lo vado a calzare proprio sopra il gancio in questo modo giro la manovella in modo da liberare il gancio successivo e ripeto lo stesso passaggio scendo lungo la mia lavorazione e vado a prendere il filo in corrispondenza alla stessa altezza di quello che ho preso per il gancio precedente calzato sul gancio vado a girare la manovella sempre molto lentamente e ripeto questi passaggi per tutti i ganci che mi si presentano in questo giro quando ci ritroviamo nuovamente davanti al gancio di colore blu e abbiamo tirato su tutti i nostri punti possiamo riprendere con la normale lavorazione questo passaggio che vi ho mostrato non è obbligatorio per utilizzare la prim maxi è una sorta di rifinitura che ci tenevo però a condividere con voi perché ho pensato potesse esservi utile riprendiamo quindi a girare in senso orario la nostra manovella ho fermato la mia lavorazione una volta raggiunta all'altezza di circa 20 centimetri partendo dal bordo ripiegato fino ad arrivare ai miei ganci giro la mia manovella in modo da far prendere al gancio di colore blu il filo per un'ultima volta dopodiché vado a tagliare il filo proveniente dal gomitolo lasciandomene una buona quantità più ne lasciamo meglio è soprattutto se poi vogliamo andare a riprendere i nostri punti o eseguire una chiusura come quella per il cappellino e poniamo il filo sull'ago in dotazione l'ultimo gancio che racchiude che blocca il filo è quello di colore blu e lo liberiamo anche dal nostro guida filo giriamo lentamente la macchina e vedete che questo gancio il numero 2 non avendo preso il filo tenderà a far saltare il nostro punto prima che questo accada lo andiamo a recuperare col nostro ago in questo modo e facciamo passare il filo attraverso in questi passaggi vi consiglio di procedere veramente molto lentamente così da non perdere alcun punto non è necessario tenere teso il filo con il quale recuperiamo i nostri punti e proseguiamo in questo modo fino a liberare tutta la nostra lavorazione e raccolto l'ultimo gancio quello di colore blu il nostro progetto è libero questo è il bordo superiore del nostro progetto se lo andiamo a stendere verso l'alto vedete come il filo con il quale abbiamo tirato giù i punti dalla prim maxi vi passi ancora all'interno in questo modo questo ci consente ad esempio di posizionare il lavoro su dei ferri circolari o dei ferri dritti e continuare nella lavorazione creare ad esempio un bordino se lo desideriamo oppure di riprendere i punti anche con l'uncinetto nel nostro caso per realizzare il cappellino il filo ci aiuta già a chiudere la lavorazione nella parte superiore perché non dovremo far altro che prendere il nostro filo e andare a tirare accompagnando ovviamente il tutto vedete come la parte superiore si arricci su se stessa fino a chiudersi completamente con il nostro ago dobbiamo ora bloccare il filo affinché il cappellino non vado ovviamente ad aprirsi per fare questo tiriamo il filo entriamo con l'ago all'interno del progetto lo giriamo sul rovescio e tenendo tutto ben teso andiamo a bloccare con uno o più nodini ci concentriamo ora sul bordo inferiore del progetto anzi in realtà abbiamo due bordi quello che abbiamo realizzato assolutamente facoltativo riprendendo i punti dopo i primi giri di lavorazione e il bordo naturale che si viene a creare con la lavorazione della prim maxi anche in questo caso abbiamo un filo che passa all'interno di tutti i punti quindi potremmo rimetterlo sopra dei ferri da maglia riprenderle con l'uncinetto in generale io preferisco fare questo doppio bordo perché una volta ripiegato il bordo naturale verso l'interno il risultato mi sembra molto più omogeneo e possiamo sfruttare il filo che avevamo lasciato in più all'inizio ricordate i famosi 40 centimetri per bloccare il bordo naturale all'interno del lavoro utilizzando sempre il mio ago vado a bloccare questo bordo all'interno del progetto con punti estremamente morbidi in questo modo riprendo le maglie sul bordo naturale e le blocco faccio i punti molto morbidi perché in questo modo indossando il cappello questo mantiene la propria elasticità e proseguo in questo modo fino a bloccare tutti i miei punti raccolti tutti i punti vado a bloccare anche questo filo all'interno del lavoro e il nostro cappellino è pronto per essere indossato potete vedere quanto sia elastico sia nella parte superiore che nella parte inferiore siamo così arrivati al termine di questo tutorial per realizzare un cappellino una cuffia infilato con la nostra prim maxi la macchina da maglieria più grande di casa prim dove potete trovarla in tutte le mercerie e negozi online e fisici rivenditori del marchio oltre ad avervi mostrato una delle funzioni di questa macchina quella della lavorazione in circolare e vi ricordo con la prim maxi potete eseguire anche lavori a pannello di avervi dato un buon spunto creativo con questo cappellino soprattutto per quanto riguarda la lavorazione del bordo se avete dei dubbi delle domande non esitate lasciatemi un commento proprio qui sotto il video e sarò felice di rispondervi se siete poi alla ricerca di altri tutorial dedicati agli accessori e strumenti di lavoro del marchio prim li potete trovare in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale youtube dove se ancora non l'avete fatto e ovviamente se ne avete piacere vi invito ad iscrivervi cliccando sull'apposito pulsante sempre sotto il video perciò con il mio nuovo cappellino vi saluto e ovviamente con la mia prim maxi vi auguro buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un mio prossimo contenuto digitale buon proseguimento